Salve amici, vi leggo qualche nota che ho scritto e che trovo abbastanza importante diffondere, anche perché in Italia appare, secondo Camilleri, che ci sono 2 milioni di analfabeti, 12 milioni di persone che non leggono e le altre guardano la televisione. E quindi per evitare che le cose che io ho scritto non vengano recepite proprio da nessuno, faccio questo intervento, piccolo intervento video. Nelle mie opere artistiche i temi che trasporto su tela tendono al senso del bello e provengono dal bisogno della ricerca dell'armonia. Comprendo gli autori che esorcizzano le proprie emozioni con altra espressività perché comprendo il senso terapeutico dell'arte e il bisogno di ciascuno di noi di esternare la propria personale indole creativa e emotiva. Il compito dell'artista però è superare le proprie allucinazioni e operare e pensare che al di là degli spiazzamenti interiori esiste un mondo sensibile e armonioso dove la sua anima può vivere. La sua testimonianza, la sua opera mostrata al pubblico contenga questo messaggio subliminale per il bene di tutti perché è la generosità del gesto creativo che rende le opere grandi e importanti. Grazie.